Credo che quello che è accaduto stanotte rappresenti non tanto solo per la CGL ma complessivamente per la nostra comunità un fatto molto grave perché una Camera del Lavoro è un presidio di democrazia, è un luogo di aggregazione di lavoratori, pensionati che ricevono assistenza, che liberamente si sono associati alla CGL e partecipano alla vita democratica della città. Ci sono state delle scritte oltraggiose, io credo che in breve tempo si possa risalire i responsabili perché bisogna reagire con forza rispetto a questi atti che non sono solo vandalici, sono degli atti che mirano a intimidire una comunità, a mettere in secondo piano dei valori importanti di una comunità e noi rappresentiamo il primo sindacato italiano con la sua storia.